Allora iniziamo la sessione dedicata agli strumenti per l'ottimizzazione dei flussi di lavoro BIM. Io sono Alessandro Breghetto, un tecnico di NTI NKE e prima di iniziare a parlare e a vedere un po' i contenuti della sessione che sta iniziando, una veloce presentazione di chi siamo. In un mondo in cui tutto è complesso, ti aiutiamo a visualizzare il futuro. Siamo NKE, una tech company Autodesk Platinum Partner. Usiamo la tecnologia per abbattere le distanze e connettere le persone. Collaboriamo con professionisti ed aziende per realizzare i loro progetti più ambiziosi. Utilizziamo il BIM per unire il mondo della progettazione con quello della costruzione. Trasformiamo progetti di architettura e grandi opere in esperienze digitali immersive. Progettiamo usando generative design, digital twin, produzione additiva e sottrattiva per perfezionare i processi e aumentare la qualità dei prodotti. Riduciamo errori e attività ripetitive per dare valore al tuo tempo. Costruiamo programmi formativi per aiutarti a sviluppare le competenze del futuro. Aiutiamo visionari, progettisti e innovatori a guidare la trasformazione digitale. Non immaginiamo solo un futuro migliore. Lo rendiamo visibile. Lo rendiamo intuitivo. E attraverso queste intuizioni creiamo nuovi risultati, nuove scelte, nuove prospettive, nuove opportunità. NKE NTI Change your perspectives, unlocking sites Siamo NKE Siamo parte di un gruppo che si chiama NTI Ci occupiamo di vari aspetti legati alla progettazione dalla fornitura del software, alla formazione, all'assistenza, all'affiancamento su progetti e siamo dislocati nei paesi che vedete in questa slide. Storicamente come NKE operiamo sul territorio italiano e spagnolo ma da un anno siamo diventati partner di un gruppo che si estende nel nord Europa arrivando a coinvolgere circa 500 persone. Avete visto nel video di prima che si sviluppano modelli, si creano modelli e noi lavoriamo con i software Autodesk che è uno dei nostri principali partner Siamo Platinum Partner che è la massima qualifica che Autodesk riconosce ai propri venditori e siamo partner anche HP per quanto riguarda le Workstation perché ovviamente i software richiedono delle macchine che siano sufficientemente prestanti per poter utilizzare al meglio i prodotti. Avete visto nel video che si è parlato di modelli quindi si creano modelli complessi, articolati, strutturati anche magari dislocati in località diverse per cui c'è una complessità alla base dei modelli che vengono prodotti e a volte la complessità fa sì che lo sviluppo del modello possa incorrere in problemi in situazioni insomma critiche che devono essere gestite per cui il processo BIM, il flusso di lavoro può richiedere delle ottimizzazioni e degli strumenti che possono aiutarci per essere più produttivi più corretti e più completi nel momento in cui realizziamo un modello possono essere proprio gli NTI Tools che altro non è che un insieme di strumenti che abbiamo come NTI sviluppato ed integrato in Revit nell'immagine che vedete c'è l'interfaccia insomma di Revit con una scheda dedicata appunto agli NTI Tools che raccoglie quegli strumenti che in ambiti diversi vanno ad operare vanno ad ottimizzare in generale quelle che sono le attività che normalmente che quotidianamente svolgiamo sono circa una quarantina di strumenti che sono integrati integrati nell'interfaccia e che ci consentono di avere un processo che sia migliorato e quindi consentire di ottimizzare di fatto le procedure aggiunge delle funzioni, aggiunge proprietà agli oggetti per rendere più completo e coerente il modello migliora l'applicazione degli standard e la verifica che è uno degli aspetti critici nel momento in cui il modello soprattutto se complesso prende forma perché non si va solamente a realizzare un modello 3D fino a se stesso ma deve essere un modello informativo ricco di contenuti consente un miglioramento dell'interoperabilità insomma adesso questi termini e queste definizioni magari possono sembrare un po' slegate magari anche da un contesto reale ma questi sono gli ambiti nei quali gli entity tools operano prevalentemente per cui il discorso relativo alla quantificazione e l'analisi alla creazione di elementi del modello alla pubblicazione dei dati e dei progetti la gestione dei dati anche relativamente alle fasi l'applicazione degli standard al progetto standard che ogni realtà va a definire al proprio interno o in condivisione con altri studi l'estrazione dei dati, la quantificazione un tema spesso critico è la coerenza del dato e che quindi possa essere manutenuto nel tempo la parte relativa alla documentazione, alla classificazione insomma vedete che gli aspetti sono molteplici è uno sviluppo interno di NKE nato sulla base di pardon ho sbagliato ho cliccato ok nato sulla base di richieste che gli utenti che normalmente assistiamo ci hanno fornito e ci hanno indicato per cui sostanzialmente a seguito di un problema sollevato è conseguita una risposta da parte di NTI con la definizione di una serie di soluzioni la parte relativa alla quantificazione delle analisi e all'analisi per cui la mancanza o l'incoerenza dei dati che sono riportati all'interno del modello il dispendio di tempo per cui procedure ripetitive e laboriose non così automatizzate o la possibilità di avere una gestione globale dei dati che sono contenuti all'interno del progetto che hanno poi una serie di risposte da parte degli strumenti contenuti negli NTI tools l'interscambio tra modelli quindi la possibilità di collaborare o di estrapolare informazioni in formati diversi non solamente nativi quindi non solo modelli legati al mondo Revit ma uscire verso il formato BCF e quindi poterlo portare su software di coordinamento esterni la possibilità di andare verso Excel e utilizzare Excel come uno strumento integrato all'interno del progetto le revisioni del progetto la manutenzione per cui anche il passaggio di versioni che spesso possono richiedere tempo e dispendio di energie problemi comuni legati alla costruzione del modello per cui la reperibilità degli oggetti che debbano essere inseriti a volte gestita attraverso processi che sono un po' articolati o magari organizzati in modo più primitivo anche qui abbiamo una serie di strumenti che ci permettono di poter gestire quelle che sono delle librerie specifiche di oggetti legati al progetto la possibilità di automatizzare la creazione di stanze la creazione di pavimenti e soffitti per stanze la possibilità di generare delle viste 3D specifiche relative ad un particolare contenuto l'ottimizzazione del modello per la consegna e quindi come uscire quindi il progetto una volta definito o in fase di definizione che possa essere anche in questo caso sistemato, preparato per una condivisione di dati che sia il più possibile efficiente attraverso formati anche esterni quantità quindi dati che possano essere estratti in modo più automatico il più automatizzato possibile per gli oggetti che sono presenti all'interno del modello evitando processi manuali o processi lasciati molte volte al caso la classificazione per cui l'inserimento di informazioni il BIM si basa inevitabilmente sui contenuti sul modello tridimensionale ma con i dati inseriti e le informazioni inserite negli oggetti e all'interno del progetto cosa che diventa a volte un po' per la complessità del progetto per la complessità della struttura difficile da gestire con mancanza di dati o incoerenza dei dati le fasi del progetto in modo tale che la variabile del tempo la proprietà del tempo possa essere comunque controllata e andiamo poi alla fine verso la documentazione quindi l'uscita poi del modello sotto formati diversi in modo che le informazioni oltre alla parte grafica di rappresentazione del progetto possa essere il più possibile completa e coerente e salterei un po' velocemente per non tediarvi con innumerevoli problemi comuni che probabilmente anche voi nella vostra quotidianità affrontate per andare a vedere alcune delle funzioni principali non ha senso vederle tutte avrebbe più senso magari vederle in una modalità diversa che non un che non un powerpoint ma quali possono essere alcune delle principali funzioni che ritroviamo negli NTI Tools il tool Excel è sicuramente uno dei più utili ed utilizzati di fatto la possibilità di comunicare ed uscire in un formato nativo che non sia semplicemente un formato di testo non è una semplice esportazione ovvero si può anche arrivare a quello ma di fatto con il tool Excel io posso generare file di Excel a partire dal modello a partire dagli abachi che sono presenti a partire anche da un modello nel quale gli abachi ancora non ci sono per cui definisco come se creassi un abaco ma in realtà non è così una tabella esterna direttamente in Excel ho la possibilità di creare un link un link che sia dinamico quindi non solo un dato in uscita non solo una tabella che in un qualche modo funge da report ma ho la possibilità di far diventare l'Excel uno strumento del progetto compilabile in Excel e ricaricabile all'interno del modello stesso andando a popolare tutte quelle informazioni che magari il progettista che lavora su Revit non conosce perché magari è un ambito di competenza di un utente differente degli automatismi che consentano di andare a generare da Excel gli abachi o l'inserimento poi dei locali la definizione dei locali che debbano essere utilizzati all'interno del progetto per cui Excel diventa sostanzialmente un parente stretto uno strumento affiancato a quello che è il progetto tridimensionale parametrico di Revit copia parametro anche questa funzionalità è estremamente utile perché ci dà la possibilità di copiare su elementi diversi parametri attingendoli da altri oggetti per cui evitando processi che possono essere anche a volte un po' laboriosi di aggiunta appunto di informazioni e il progetto stesso e i parametri che gli elementi contengono che possono essere trasferiti in altri elementi in modo tale da avere una compilazione delle informazioni o un'associazione di dati che possa essere il più veloce possibile tool leggenda anche questo è una delle funzioni principali alcuni definiscono una delle function hero quindi uno degli strumenti più importanti la creazione delle leggende è tendenzialmente un'operazione complessa che richiede se l'avete fatto sapete benissimo di cosa sto parlando una serie di operazioni manuali con anche la difficoltà nell'andare a rappresentare a riportare dati molto spesso i dati sono niente di più che dei testi perdendo di fatto il legame con gli oggetti il tool leggenda invece va a ottimizzare questa procedura facendo in modo che a seconda di determinate categorie che possono essere da noi definite possa essere creato una leggenda riportando le informazioni grafiche quindi delle viste di pianta delle viste inalzato a seconda della tipologia degli oggetti ma soprattutto andare a scegliere quali sono i parametri che devono essere utilizzati per comporre la leggenda non saranno più testi testi singoli ma saranno i parametri del nostro progetto con tutti i vantaggi che ne derivano dall'avere il coordinamento di fatto con i dati il layout ovviamente è personalizzabile la composizione colore o color composer attività questa che spesso in Revit viene gestita attraverso i filtri la definizione di filtri associati alle viste che poi magari con modelli di vista vengono replicati su viste molteplici un'operazione non così immediata non così automatizzata possibile sì ma che richiede un certo dispendio di energie il color composer invece semplifica notevolmente la cosa ci permette di scegliere quali oggetti debbano essere interrogati quali sostituzioni della grafica devono essere applicate posso lavorare sulla singola vista o posso replicare il tematismo che io definisco su un numero potenzialmente infinito di viste in modo massivo e può essere di fatto applicato a tutte le categorie del modello non solo a quelle tra virgolette che possono essere mostrate all'interno della tabella dei filtri la selezione degli oggetti il filtro di Revit di per sé ragiona per categorie non ragiona per entità non ragiona per tipi con il quick select invece io ho una gestione sempre coordinata di quello che c'è all'interno del mio progetto con la possibilità di arrivare a raggiungere per tipo per istanza i differenti elementi poterli selezionare poterli isolare poter utilizzare la selezione come uno strumento utile eventualmente anche per una creazione di vista o per la definizione se necessario di filtri si integra ovviamente anche con i work set la rinumerazione degli oggetti sarà capitato spesso e volentieri di dover rinumerare linee di griglia locali elementi architettonici elementi strutturali insomma è un'operazione che anche questa fattibile manualmente ma con il rischio di incoerenza del dato perdita del tempo non correttezza alla fine delle informazioni con il rischio poi ulteriore di dover replicare n volte la modifica attraverso gli strumenti di ordine rinumera è possibile definire dei criteri che si basino sulla disposizione spaziale che gli oggetti hanno che si basano su eventuali proprietà che gli elementi contengono si definisce sostanzialmente una regola all'interno della finestra di dialogo in modo tale che la rinumerazione possa essere eseguita sostanzialmente in automatico senza dover agire manualmente sul progetto cosa che comunque rimane possibile perché fra le modalità di applicazione dell'ordine rinumera c'è anche la possibilità di lavorare con una selezione manuale quindi un ordinamento manuale degli oggetti l'orientamento quindi a seconda di come è disposto il nostro progetto sia il nord reale o il nord di progetto che utilizziamo per cui in funzione di come è disposto effettivamente il modello 3D possiamo trasferire questa proprietà sugli elementi in modo tale che sia possibile per alcune tipologie di oggetti poter individuare a livello di proprietà o all'interno dei nabaco quale sia l'orientamento che quel particolare elemento assume all'interno del progetto qui vedete quell'immagine che altro non è che l'icona e anche una parte della finestra di dialogo in cui si definiscono quali sono i suffissi o i prefissi da utilizzare che poi vengono riversati all'interno degli oggetti come nuovo parametro aggiunto il browser contenuto così come la slide che vedrete dopo serve per andare a gestire i contenuti quindi la possibilità di poter avere reperibili in tempo veloce gli oggetti che servono per sviluppare il progetto una sorta di libreria di famiglie di elementi delle differenti discipline che noi abbiamo disponibili per poter sviluppare il modello ma in modo organizzato in modo strutturato è di fatto distribuibile anche a tutti gli attori che sono presenti all'interno della struttura e che partecipano allo sviluppo del progetto c'è una sorta di tavolozza di palette che mi organizza gli oggetti e che si può completare con la libreria contenuto quindi con un ulteriore strumento che basandosi magari sulla struttura di cartelle che possediamo e che viene magari anche definita proprio sulla base del progetto ci dà la possibilità di andare ad organizzare quelli che sono gli elementi sono organizzati sono facilmente individuabili sono consultabili perché di fatto i parametri che gli oggetti hanno saranno visibili anche all'interno di quel pannello che riporta l'anteprima del componente stesso quindi proprio per andare a semplificare il più possibile lo sviluppo del modello il crea box di sezione potreste dire è un comando che già c'è in Revit in effetti è così io seleziono un oggetto e ho la possibilità di fare una visualizzazione nella vista 3D di default di quella selezione eseguita in realtà la destinazione di quel comando nativo di Revit è sempre la vista 3D di default attraverso questo strumento invece noi possiamo non solo definire quale sia il box di sezione definirne anche eventualmente una sorta di margine quindi si regolerà attraverso delle opzioni la dimensione del ritaglio e se necessario andare a definire una vista direttamente senza che io debba passare da un duplica che di nuovo manualmente debba essere eseguito evitando di conseguenza magari di andare anche a sporcare se così si può dire altre viste di progetto updater parametro questo è una di quelle funzioni che di fatto automatizza una parte anche dei processi che abbiamo visto prima ci sono delle operazioni che richiedono da parte nostra l'avvio questo avvio può essere eseguito in modo manuale ma potrebbe essere eseguito anche in modo strutturato nel momento in cui si verifica un determinato evento come potrebbe essere l'apertura come potrebbe essere l'esportazione come potrebbe essere il salvataggio o la stampa quindi in modo tale che nel momento in cui si clicca banalmente sul bottone salva io si assicuro che tutti gli oggetti che sono presenti vecchi e nuovi che sono stati inseriti da me o da altri utenti che magari lavorano in condivisione con me all'interno di quel progetto abbiano comunque sempre i dati che siano aggiornati l'elenco che vedete più o meno all'interno di questa slide altro non sono che attività che definisco io e che mi consentono di andare ad aggiungere parametri di andare ad aggiungere proprietà agli oggetti la cosa avviene nel momento in cui viene eseguito il comando ma può avvenire anche attraverso questo aggiornamento delle informazioni ci sono poi dei tool specifici per oggetti per cui la scheda che noi ritroviamo aggiunta nella nostra interfaccia e che vediamo come parte integrante della nostra interfaccia in realtà andrà a popolare anche l'interfaccia contestuale ovvero seleziono un oggetto e come ben sapete Revit mostra quali sono gli strumenti applicabili per quell'oggetto si aggiungeranno quei comandi relativi agli enti ai tools che lavorano su quella particolare entità ad esempio selezionando un elemento porta un elemento finestra potrò aggiungere su quegli elementi attraverso una selezione attraverso una regola che andrò a definire quali dati debbano essere inseriti come potrebbe essere ad esempio una serie di proprietà legate all'oggetto che funge da host quindi quale sia il muro quale sia lo spessore la direzione di apertura e altro non sono questi che parametri che mi serviranno per rendere più completo il modello o per avere un'estrazione dei dati attraverso gli abachi il più possibile completa area lorda della parete tendenzialmente Revit ci restituisce sempre l'area netta nel momento in cui inseriamo porte finestre o apertura ci sarà indicata l'area effettiva che quell'oggetto ha non considera il vuoto il vuoto per pieno potrà farlo andando ad utilizzare questo strumento che andrà ad aggiungere un ulteriore parametro in cui verrà specificato il valore lordo della parete a meno degli elementi che sono stati inseriti idem per le porte e le finestre nel momento in cui abbiamo una porta una finestra di forma regolare magari rettangolare diventa anche semplice relativamente semplice calcolarne la superficie laddove ci sono forme complesse la cosa richiede un maggiore sforzo da parte nostra nella definizione magari di una formula particolare che consideri e che ci estragga il dato relativo alla superficie di quell'oggetto con questo strumento invece verrà direttamente calcolato e associato ma sarà sempre un parametro che si adatterà alle modifiche che l'elemento porta o finestra subirà nel tempo la creazione di pavimenti e soffitti per stanza quindi poter andare a ragionare a livello di locali adesso qui vi parla di stanza anche se il comando che noi troviamo all'interno di Revit è il locale o la room nella versione inglese ci permette di creare un elemento architettonico specifico per quell'ambiente ragionando quindi in modo semplificato rispetto alla creazione dello specifico pavimento che viene fatto magari attraverso la definizione di un contorno la possibilità di scegliere fra pavimenti diversi la possibilità di navigare il progetto e poter avere all'interno di quella finestra che riassume i contenuti che abbiamo all'interno del nostro file quale sia la stanza il locale su cui stiamo lavorando la creazione automatica delle stanze per cui poter avere velocemente rapidamente inserito all'interno della nostra pianta una serie di elementi che possano essere già preventivamente tematizzati il calcolo della superficie delle pareti sempre a livello di locale per cui localmente stanza per stanza avrò la possibilità di conoscere quali siano le superfici delle pareti che insistono su quella stanza distinguendole tra pareti quindi muri di base piuttosto che facciate continue con l'aggiunta di ulteriori di ulteriori parametri la configurazione dell'attività per cui quei processi che prima avete visto eseguibili eseguibili come una sorta di batch nel momento in cui si salva si esporta si stampa il modello possono essere predefinite magari da da chi occupa uno specifico ruolo all'interno della struttura in modo tale che possano essere massivamente eseguite l'elenco che vedete è un elenco che dipende dal progetto su cui si lavora per cui le attività vengono da me definite all'interno di quel progetto possono essere esportate in maniera tale che differenti progetti possono avere una coerenza dei dati l'ordine con cui io dispongo le attività all'interno di quell'elenco quale seleziono perché posso anche decidere di non andarle eseguire tutte ma solamente in parte è sempre una scelta che definisce l'utente in modo tale che ci sia una gestione dei dati che sia il più possibile efficiente e sicura la creazione di gruppi di stanze fin dal primo avvio quando si ragiona a livello concettuale magari si stanno definendo preliminarmente gli spazi all'interno dei quali lavorare ci dà la possibilità di andare a ragionare ad usare di fatto questo strumento come se fosse una sorta di strumento analitico che ci consente magari di ragionare attraverso degli elementi semplici su volumi su disposizioni possibili e questo è un tool estremamente comodo nel momento in cui si hanno magari file molto pesanti o molto numerosi che riguarda l'aggiornamento che normalmente eseguiamo o dobbiamo subire quando apriamo un file la cosa diventa ancora più impattante quando magari nel nostro file ci sono molteplici file collegati attraverso l'upgrader io eseguo in modo massivo l'aggiornamento dei contenuti che sono presenti all'interno del progetto o dei contenuti che sono presenti all'interno di una specifica cartella facendo sì che il progetto diventi direttamente più comodamente accessibile a seconda della versione in cui devo utilizzarlo lavorerà ovviamente anche con i workset questo è un po' un cenno di alcune delle funzionalità presenti negli NTI tools vi dicevo sono circa una quarantina complessivamente noi come NKE collaborando essendo diventati parte del gruppo NTI portiamo anche suggerimenti a quelli che potrebbero essere dei nuovi tool inseribili i suggerimenti che portiamo tendenzialmente sono suggerimenti che arrivano da voi dagli utenti che lavorano con Revit su quale potrebbe essere una funzionalità integrabile per cui per altre informazioni o per approfondire questo discorso ci trovate allo stand B59 che è esattamente qui dietro io vi ringrazio per l'attenzione se avete suggerimenti ci trovate qui grazie grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti